C'era questo signore, questo Saro Fassepella, tanto per dire uno nuovo, no? Che stava nascendo c'è la macchina dal parcheggio. E allora c'era, avete presente l'immagine dello posteggiatore a Catania, no? Avanti, iemarere! Iemarere, avanti! Avanti, arere! Avanti, iemarere! Iemarere, avanti! Forza del drogo! Boh! Qua stacono, boh! Noi siamo qua che diamo ardenza alle macchine. Ardenza, il cerone non ha fuoco, no? Pego, pazza, forza, iemarere, 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 avanti, arere! Chi tu s'acassarello, boom! Gli andò qua la macchina del rere, no? C'era un bivus stop a la macchina che c'era del rere. Dall'altra macchina, gli scendono due, omosessuali. Che uno non c'è venendo contro per carità, ma uno che si chiamava Savatore, possibilmente. Ora si fa chiamare Samantha, a cosa è strana. Che è Fuso, che è capitato il russo alla Mireille Mathieu, tutta la francese, no? Ora così, Samantha e Giuseppina. Perciò scendono peggio dei film, non so no? Iiii! A te che macchina no, ma consumavo! Guarda, Dio, vedo stop! Giuseppina, vuoi chiamare carabinieri? Aù, aspetta un minuto, quale carabinieri? Che provavo altre cose? Io sogno senza assicurazioni. Ci faccio, ne mettiamo, raccordo. Iiii! Senza assicurazioni, sì? Ti può fare, aspetta? Perché ti pinno, senti? Perché ti pinno? Sì, dice, quale aspetta? Ne mettiamo, raccordo. Non ti preoccupare, Giuseppina, chiamare carabinieri, chiamare carabinieri, aspetta, aiutate, forza, muovete! Sì, ok, sento, vado, tu, Paolo, io, stop, quanto può costare? Eeeh, 25 mila lire. 25 mila lire? A vedere la macchina nuova? Ma che si, ci ha munito? Giuseppina, chiamare carabinieri, aiutate! Auggia, aspetta un minuto, quando sarai? 35, 40, avanti, 50 mila lire! 50 mila lire? Eeeh, come? La macchina è nascita dal concessionario? Ma chi si, bestia, è davvero, gioia? Ma come, non avete che attaccato a chi le lettere, che aveva attaccato a te? Ah, vado, Giuseppina, aiuti, chiamare carabinieri, vado su se muovete, chiede, aiutate, forza, inghiaiata, muovete! Senti, guarda, aspetta, ci mettevo una raccolta, scusa, quando vuoi, ci sarebbe lo tu, quando vuoi, dice, avanti. Quando, quando voglio, guarda, ricercate come minimo, ci puro il sciopo, un danno, io ho scanto, se mi pigliai, minimo ci vuole un milione. Che tu stop, il milione, io devo fare solo un golo, così. Giuseppina, vieni qua che mi sono raccolto! Grazie.